riusciremo mai a colonizzare marte il pianeta rosso potrà mai diventare la nostra seconda casa da anni con il suo lavoro cerca di rispondere a questa domanda i misteri dello spazio hanno ispirato film romanzi teorie ed è lei a tentare di svelarli astrofisica la prima donna ad aver coordinato i voli spaziali l'artefice della realizzazione dei sogni di molti bambini vive in olanda ma è tornata in italia per raccontarci la sua storia è simonetta di pippo la vita istruzioni per l'uso simonetta di pippo racconta se stessa giovedì 8 settembre alle 22 in piazza del popolo